E' solo lunedì Il video su YouTube dei Daft Punk Around the World non è visibile in tutto il mondo A Hong Kong l'icona a forma di mondo di Facebook mostra l'altro emisfero rispetto alla nostra I moderni cestini per la spesa sono modellati per non sbattere sulle gambe I tappi delle bottiglie Coca Cola in plastica vanno bene anche per le bottiglie di vetro Sbattere la testa contro il muro consuma 150 calorie all'ora In Inghilterra è illegale mangiare la mine spice, che sarebbe la torta ripiena di carne, durante il giorno di Natale La ptenorofobia è la paura di essere solleticati dalle piume Quando gli ippopotami sono irritati il loro sudore diventa rosso La dipendenza da Facebook è un disturbo mentale riconosciuto dagli psicologi Bene ragazzi per questo episodio è tutto, spero di avervi fatto iniziare la settimana con un sorriso Fatemi sapere se volete altri episodi del genere e lasciate un like, un commento come sempre Io sono Canos, bella!